La ciclovia dei parchi della Canabria offre agli appassionati delle due ruote 545 chilometri di autentica scoverta e nuove esperienze tra paesaggio ed ecosostenibilità attraversa longitudinalmente la regione Canabrie sulla dorsale arrendinica interessando un'area protetta, basta circa 350.000 ettari con un patrimonio paesaggistico di biodiversità, di endemismi vegetali ed animali davvero straordinari Un percorso di turismo sostenibile, un percorso di civiltà un percorso costruito dai nostri parchi, dal parco della Spromonte, dal parco della Sira dal parco del Pollino, dal parco delle Serre quindi un meccanismo partecipativo che dimostra la forza della Calabria la forza della Calabria come comunità e come istituzioni una soddisfazione che deriva certamente dal lavoro di tutte le istituzioni e anche dalla natura, dal dono che ha la Calabria di essere la più bella riserva naturale del Mediterraneo quindi su questa riserva, su questi meccanismi dobbiamo costruire lo sviluppo comunità energetiche rinnovabili da un lato, turismo ecosostenibile è una strada chiara e dobbiamo praticarla Grazie 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 Grazie